Siamo finalmente con la strada aperta completamente, ufficialmente, guardate, senza barriere, è finito questo incubo per Positano, abbiamo seguito tutti i giorni, Positano News ha dato l'anteprima della problematica e ha informato anche in tempo reale sulla percorrenza sia ufficiale che materiale, ripresa a tutti quanti gli altri, che bellezza finalmente vedi la nostra strada libera anche perché questi ostacoli creavano obiettivamente un pericolo essi stessi, questi New Jersey, sulla strada perché per noi è indispensabile questa strategia, fondamentale, con questo spettacolo, questa Alfa Romeo che ci accompagna, con un panorama unico e bellissimo, anche se il tempo sembra poco clemente, vi salutiamo a tutti, grazie a tutti i lettori di Positano News e approfittiamo per invitarvi per sabato sera per la festa di pesce a fornita.